Il giorno e la storia. Oggi è il 18 dicembre. 1865. USA. Abolita la schiavitù. 1932. Inaugurata l'ittoria alla presenza di Mussolini. 2007. L'Assemblea ONU approva la moratoria universale contro la pena di morte. Commenta il fatto del giorno Andrea Cangini, direttore del resto del Carlino e quotidiano nazionale. Oggi ho scelto di parlare della giornata della fede, cioè della stagione autarchica del fascismo.